Ciao a tutti, oggi prepareremo il purè di patate gustoso. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono patate pelate e tagliate a fette, latte, burro tagliato a pezzetti, sale, noce moscata, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, pepe e speck. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere le patate, il latte, il sale, chiudere con il coperchio senza il misurino e posizionare il cestello e cuocere per 30 minuti, 95 gradi, velocità a 2. Aggiungere il burro, il pepe, la noce moscata, il pecorino, il parmigiano, e lo facciamo montare per 50 secondi a velocità 3,5. Il purè è pronto. Trasferire in una terrina, decorare con lo speck e servire. Purè di patate gustoso. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.